Salve, volevo con questo video fare le mie scuse ai due piloti militari caduti con l'elicottero vicino a casa mia, perché in un video avevo detto che dava una notizia bella che era caduto un elicottero ma non si era fatto male a nessuno, e invece come potete leggere anche dall'articolo a fianco a questa foto, sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni anche se non sono in pericolo di vita, per cui chiedo scusa. Ora analizziamo un po' questa foto che mi è capitata tra le mani con questo articolo e si vede appunto la gravità dell'accaduto perché l'elicottero deve essere caduto a peso morto come una pietra e deve aver rimbalzato sul suolo e dopodiché le pale urtando, inclinandosi un po' urtando in terra, hanno fatto ruoteare l'elicottero a rovessio, perché l'elicottero proveniva sicuramente da sinistra, perché io l'ho visto volare poco prima che credesse e stava puntando verso questo luogo, per cui doveva provenire da sinistra verso destra e l'elicottero qui invece si è rivoltato. Poi avevo fatto vedere qua sulla destra, vedete degli alberi, sulla destra avevo fatto vedere questi alberi che erano degli alberelli, piccoli, con tronco molto piccolo, che avevano dei segni di un'elica che aveva urtato contro questo tronco e aveva rotto qualche rametto e sicuramente anche voi avrete capito che non si trattava del rotore principale, perché avrebbe schiantato completamente l'albero. Invece, come potete vedere dalla posizione dell'elicottero, è stato il rotino di coda che ha fatto quei segni negli alberelli che vedete, quel verde sulla destra, dove ci starebbe il rotino di coda, che in questa foto non si vede. In fondo si può vedere la stazione di servizio della superstrada E45, poi l'elicottero si può vedere che ha tutto sporco di terra il muso, per cui deve essere venuto giù di muso, deve aver urtato violentemente il muso, per cui è normale che dopo i piloti all'interno subiscono dei traumi e probabilmente se volava 10 metri più in alto avrebbe avuto una conseguenza tragica per i piloti. comunque, se almeno si sono salvati la vita, è già molto, visto la situazione dell'elicottero. Auguro ai due piloti gli auguri di una pronta guarigione. ciao e alla prossima.